Coi soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli asili di Montesilvano costeranno di meno. Il Comune in provincia di Pescara ha vinto un bando e otterrà due finanziamenti, i più cospicui tra quelli dei comuni limitrofi, che consentiranno sia gli interventi edili, sia di ridurre le rette degli asili nido. Montesilvano ha ottenuto due finanziamenti, uno per la costruzione dei nuovi nidi, che avverrà a breve, entro fine mese uscirà il decreto. L'altro è un finanziamento per la gestione dei nidi, che darà la possibilità al Comune di Montesilvano di introdurre una retta unica, abbassandola all'entità del bonus nidi IMSS, che è 272 euro per le famiglie fino a 25.000 euro, in modo da poter garantire la gratuitità dell'iscrizione al nido per quelle fasce fino a 25.000 euro e una forte agevolazione per le fasce superiori. Le fasce fino a 45.000 euro pagheranno la differenza fra il bonus e la retta, che è pari a 45 euro. Le famiglie sopra i 45.000 euro pagheranno 132 euro. In realtà è quasi nulla rispetto agli attuali costi. Il nido attualmente, la retta massima è 500 euro. Presto il bonus sarà esteso anche ai nidi privati, spiega l'assessore alle politiche sociali. Per Montesilvano è un grandissimo risultato, perché comunque ci permetterà di ampliare le iscrizioni e soprattutto rendere le famiglie questo accesso molto più agevolato. Questo verrà esteso poi anche ai nidi privati. Iniziamo adesso con un bando per i nostri nidi comunali e poi si passerà ad allargare la proposta anche con un altro bando ai nidi privati.